Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione It's bullshit Hell yeah Everyone thinks it must be so exciting working in a gun store But it's really not I will send you money as soon as I pay the bill Whatever Hey y'all we got ourselves some boiler suits Oh my god Tentere Politico Allora X Formula 3 6 7